Il mio più bel ricordo è quando, ne ho tanti, quando ho fatto la colazione con l'ingegnere Ferrari per la prima volta, quel giorno lì sono stato molto egoista, sono venuto da solo, non volevo assolutamente nessuno con me, nessuno legali, nessuno manager, nessuno. Volevo parlare davanti a una persona che mi ha fatto sognare tutta la mia vita. Alla fine di questa cena siamo alzati, siamo stretto la mani e abbiamo deciso di fare la passione due anni senza firmare niente. Per me la stretta di mano di Enzo Ferrari vale di più che una firma sotto un contratto. Questo è stato veramente un bel inizio. Ci voleva di cambiamento la Ferrari e Maurizio arriva bene, sono contento, ha fatto una bellissima carriera la Philippe Maurice, sono anche contento per lui, è molto professionale, l'ho conosciuto molto bene. Per fare una squadra molto competitiva, lui lo sa bene, la Formula 1 non basta più un ingegnere, ci vuole un ingegnere per il cambio, uno per il motor, uno per l'aerodinamica, uno per l'elettronica e poi bisogna mettere tutti insieme questi componenti per avere dei ottimi risultati. Vettel, senz'altro è un pilota, lo sappiamo, ha vinto già i mondiali e che è a un altissimo livello. Bisogna, penso, per me di avere un po' di pazienza e quando Maurizio, che credo che farà veramente una squadra ottima sul piano tecnico, i risultati torneranno per cercare di vincere il mondiale. La fabbrica è un bel po' che non andava dentro, quello che ho sentito è l'atmosfera, è una catena di montaggio per le macchine di serie, però non si sento quando si visita la fabbrica, perché tutti i flussi sono proprio calcolati e le persone non hanno stress, lavorano in un'ottima condizione e questo ho trovato che è un bel modo di lavorare, ho accompagnato 20 persone. Come posso concludere? Sono rimasti tutti bocca aperta. Avete messo la barra molto alta con questa macchina che si chiama LaFerrari, questo quando l'ho visto la prima volta, ho fatto il giro, mi sono prima fermato davanti con le occhi aperti come un bambino e ho detto ma questa è una bellezza pazzesca, non bellezza solo, bellezza ma bellezza anche sul piano della ricerca. Qualche volta la gente mi dicono, ma René siamo arrivati a un livello che non possiamo più andare avanti, questo dimostra che il livello non è mai fermo e si va avanti sempre con delle tecnologie incredibili. La costa azzurra cosa ci vuole? Promenade des Anglais, ci vuole la California che si va apri il teto e poi fai a fare una passeggiata.